Happy Radio, sono Chiara Nicoletti con Stefano Mordini, Riccardo Scamarcio e Volker Bruch, regista e protagonisti di Race for Glory, al cinema dal 14 marzo. Il racconto di una perdente, una loser che la lancia, una loser in partenza che invece ribalta le carte e stravolge la strada che era stata scritta per lei. Era questa l'idea, usate il gioco di parole, vincente per questo film? Sì, nel senso che vuoi rispondere tu Stefano? No, non lo so se era esattamente questa l'idea, però in realtà la storia sì, come dire, in qualche modo poi Riccardo ha avuto lo spunto e l'idea di voler raccontare questa storia qui, poi lo è diventato in qualche modo un'impossibilità che è diventata una possibilità, diciamo così. E nell'arco di questo racconto, scritto da Riccardo da me insieme a Filippo Bologna, abbiamo trovato, abbiamo cercato e credo trovato una chiave per raccontare questa impossibilità, per renderla per quello che è stato storicamente un evento storico nell'ambito del rally mondiale, che rappresenta la grande vittoria di una squadra italiana contro la grande squadra Audi, che in quel momento era vista come proprio l'imbattibile. Il rally come la guerra e questa guerra è vissuta da Cesare e Volter in maniera totalmente diversa, sono due visioni diciamo di questa disciplina, di questa guerra appunto. come le avete conosciute queste due visioni appunto della guerra attraverso il racconto di Cesare e come le avete messe in scena. I'm going to translate so that you can intervene. Rally here is perceived also as war and your character and Riccardo have two different visions of this world, so how did you shape a structure of these characters and these visions into the film? Well, the different visions have to come together to lead to success. I mean, that's true, they have very different views on that. because Volter is really a lonesome wolf, if you want, but Giorgio of course knows that there's a big team involved. And he's being very creative about pulling this team together and making it as functional as possible. And so, yeah, that's, but this, how they work together in the end is the story of success for Lancia in this year. OK. Sì, no, sicuramente ecco, questi due approcci, come diceva, condivido quello che ha detto Volker, perché in maniera diversa insieme riescono a trovare un equilibrio che li consente di raggiungere questa vittoria. E' chiaro che Cesare senza Walter Rol non avrebbe potuto raggiungere questa vittoria, quindi in qualche modo in questa relazione entrambi devono fare un passo verso l'altro, quindi rinunciare a qualche cosa di sé e della propria ideologia e del proprio credo e andare verso l'altro. Questo lo faccio io accettando di fargli fare soltanto sei gare, cosa che all'inizio trovo folle ma pur di averlo accetto e lui in qualche modo dopo quel momento un po' particolare del rally in Finlandia ritorna con uno spirito in cui capisce che deve aiutarmi e quindi lo fa. Quindi è come se alla vittoria, al successo, il successo lo si possa raggiungere soltanto se siamo disposti a perdere qualcosa. Girare un film di genere però contaminandolo perché qui c'è lo sporco delle corse ma c'è anche lo sforzo della mente che labora le strategie. Ho pensato molto per esempio a un film come Moneyball, il Brad Pitt, dei perdenti che invece va di strategia. Quindi mi chiedevo come vi è servito il genere e come invece l'avete lasciato perdere perché invece per concentrarvi su questo. Abbiamo già fatto operazioni di questo tipo qui, cioè prendendo il genere e approfittando del genere per poter raccontare una storia che non è necessariamente quella del genere oppure al contrario una storia di genere e renderla non necessariamente di genere. Questo secondo me è una sfida interessante di linguaggio, di scrittura, di affrontare una storia che abbia in parte di stilemi del genere dentro il racconto che non è necessariamente il rispetto di quegli stilemi. Il riferimento di Moneyball è un buon riferimento sicuramente di un percorso, in quel caso di una modalità che ha portato il protagonista, ha interpretato da Brad Pitt, nell'arrivare a un risultato e poi negarlo perché quando i Red Sox lo chiamano lui dice no, io torno da dove sono venuto. Ecco, quello è l'eroe che ci piace e questo è raccontato all'interno del baseball così come l'abbiamo raccontato all'interno del rally. Sì, non so cos'altro poter aggiungere a questa analisi precisa che ha fatto Stefano, se non per il fatto che di sicuro anche noi portiamo in scena un elogio a un modus operandi, a un modo di essere. E quindi attraverso questa storia avventurosa, di intrattenimento sicuramente dietro poi in fondo ci sono dei valori importanti che contraddistinguono un po' nei quali noi autori di questo film ci riconosciamo totalmente, anche nel nostro modo di fare il cinema. Grazie, grazie. Grazie. E io ringrazio Stefano Mordini, Riccardo Scamarcio, Volker Bruch, regista e protagonisti di Race for Growly, io sono Chiara Nicoletti per Fred, Festival Insider. Grazie. Grazie.